Ma chi può dirlo che non sia vero? Adesso appare silente. La tua consapevolezza sta svanendo. È qui la fine della tua storia davanti a un nemico insormontabile. Senti qualcuno parlare. Tutti i miei confident? Bellissimo! Ho i brividi! Adesso appaiono tutti i confident che abbiamo maxato, sicuro. Non ho solo 7 volte, ma tu. Come farei? Dai fammeli apparire tutti, voglio vedere cosa hanno da dirmi. Ma tu sei, ma io ci sono. Mamma mia, che bello. Chi è il prossimo? Siete un po' lenti a dirle queste cose, però apprezzo. Siete un po' lenti a dirle, perché ci siamo arrivati a dirle 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 a dirle. No, non è vero. Sei la ragazza che amo. Mi chiedo se sia il discorso da fidanzato o se sia il discorso che direbbe in ogni caso. Yukiko Ovviamente, siamo i protagonisti. Tutte le volte che sarà necessario. Kanji Mi sa che Teddy è l'ultimo dei nostri compagni. Sei davanti a te che non ci sia un'occhio personale. Non ci sono le persone che che venissero ancora in questo qui. Non ci sono stato pensato, non ci sono un po' lenti a dirle a dirle a dirle a dirle a dirle a te. Bello Arigato Non sono sicuro che abbia detto quello che c'è scritto perché io ho sentito Daisuki Daisuki significa ti amo Poi magari è la pronuncia diversa ed ho capito io male Una donna Appena finiti tutti quanti di parlare lo faccio Bello però questa parte Teddy Oh la volpe Beh si La volpe guaisce debolmente Beh grazie delle tue parole volpe Sei stata la migliore Oh Yumi Grazie Grazie Noi, non sono i tuoi da meno. Non sono un il nostro motivo, ci sono i tuoi potuto. Sono il nostro amico, amici, 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 a sempre... C'è sempre il resto. Ma... forse... perché noi siamo... li li facciano le compagnie. Hai ragione Beh un po' di cure adesso mi farebbero comodo Eh lo so Non c'è nessuno di noi E se sei un po' di più Sì Grazie Sayoko Guarda, ci sono persone che ci sono Grazie Grazie Non ci sono un uomo Non ci sono un uomo Avrei voluto avere qui anche il fratello di Saki Signore Che brutta parola alla fine Oh Adachi Questo è uno dei commenti più belli Grazie Questo è uno dei commenti più belli Che poi loro due mi sa che appaiono alla fine perché sono gli unici che porti sicuramente al 100% al massimo Beh oddio Adachi neanche troppo sicuro Provano avanti di storia a un certo punto Eccoti qua Oni-chan Oh Che patata Oni-chan 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 Apparirà anche Margaret e Igor Non credo Margaret perché non l'abbiamo maxata Wow Si è pure avvicinata Che poi scompare Questo vuol dire che se l'avessimo dimenticata Ci saremmo alzati e basta I cuori di coloro che hai formato i legami più stretti sono diventati la tua forza Eccoti Ma dai Si è trasfigurato i zanaghinogami Potevano fare almeno una cazzo in qualcosa Figa Di tutte le cose C'è Luce Trasformato Non è Il Il C'è 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 Con la bestia che c'ho qua dietro, ecco perché. Mi dispiace ma sei tu che non capisci. E questa è l'unica verità che apprenderai. Il verbo che bandisce tutte le maledizioni e le falsità del mondo. Verità letali. Allora è una bellissima scena ma a livello di epicità sparare in testa gli altri. L'albatote è tutt'altro livello. Mi dispiace ma è bellissima comunque. Ti sei un po' violita eh. Perché il mondo non ha bisogno di te. L'albatote è tutt'altro. L'albatote è tutt'altro. L'albatote è tutt'altro. Colui che ha dissipato il velo della nebbia. Esatto. Grazie E ora scompare questo luogo Per sempre Gli amici di cui credi le persone ha imparato a conoscere Un cuore forte legato agli altri che bramano e sverare la verità La convinzione di poter afferrare la verità con le tue mani senza essere fuorviato o raggirato Questo potere ha fatto giustizia di ciò che ha ingannato l'umanità Aprendo la porta ad un nuovo domani Molto bello Ah Stai scomparendo? Grazie 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 Non potevo lasciarti lì Arigato Quindi sarai completa Bellissimo Neanche io Esatto La carta del mondo Purtroppo Purtroppo Beh effettivamente questa era una bella domanda Dove stavamo andando? Beh, oddio Grazie della tua compagnia Peccato Grazie Vediamo ciò che abbiamo raggiunto quindi Tutto un po' troppo giallo Grazie 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 L'Eden Il mondo che tutti sognano, il mondo perfetto Grazie 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 Eh esatto Ma riparli Ma lo stavo chiedendo anch'io Stare bene sta bene penso sicuramente nei nostri cuori Dio mio Teddy Sì è l'ultimo messaggio Me ne vado Maria è morta Ciao Beh penso di poterla vedere quando vorrò io credo Bacca Ninji Ecco Ecco Hai distrutto tutto Marie? Ah Yumi Ciao Minchia no E effettivamente lui è l'unica che abbiamo maxato della scuola Mi sarebbe piaciuto vedere anche gli altri ragazzi dello sport Cosa Senti Bye bye Oh Rizio Dio mio C'è rimasto malissimo C'è rimasto malissimo Oh che bello Sti finali mi devastano sempre Dio mio La fotografia Ma Yukiko dove stava guardando Dio mio Un anno dopo Che vestito di merda Le vacanze estive La città non sembra essere per niente cambiata nell'ultima volta Un uomo che è già visto sta facendo un discorso accorato alla folla Sì ma mettiti un po' dritto dai Ciao Ciao Si è ripreso sicuramente Il comizio di Namatame continua Non sembra esserci nessuno ad accoglierti e decidi di andare a casa di Dojima Din dong Non risponde nessuno La porta principale è chiusa, pare che siano via Decidi di chiamare Dojima Moshi moshi Stanno facendo una festa sorpresa sicuro, dai per forza Stanno sicuramente facendo una roba sorpresa Dojima sembra impegnato, decidi di chiamare Yosuke Non risponde Ovviamente Ma c'è la vecchia C'è anche Daidara Ci sono tutti, c'è il vecchio solito Area commerciale centrali di Naba Non vedi nessuno che conosci Non è vero, la vecchia la conosciamo Aspetta Ebbene certo Aspetta, questo comunque non vuol dire che tu devi per forza rimanere qui Se te la senti te ne vai Non è che dove nasci devi anche morirci per forza Per cosa? Per non far chiudere tutta l'area commerciale Eh esatto Le bistecche Eh esatto C'ha ragione Ascoltate il nonno L'area commerciale si sta rivitalizzando E ti deve andare al Junes Guarda lì gli idioti che si nascondono Junes are in ristorazione Non vedi nessuno che conosci Facciamo finta di nulla Che cazzo siete vestiti Oh che bellino con quei capelli Allora Inizia Faccio subito Lei Questi capelli Stupenda Kanji Sembra Ida Uscito da My Hero Academia Lei c'ha i capelli più folti Lei si veste da donna Mi dispiace perché Yuki Ma sembra invecchiata E voi due Beh Yosuke sembri ciò che prendevi in giro di Kanji Fino all'anno prima Mamma mia C'è comunque vestita così Con quei capelli Sembra davvero molto più femminile Che era la sua preoccupazione Non esserlo Che bella che sei tu femminile però Che bella che sei Eh Volevamo sapere cosa è successo a maggio no? Con quella cicatrice con i capelli però Non ti si può guardare Inchia Sorpreso non si è fallimento Ma come diamo Ti sei vestito Ah Kanji Sì Cazzo Guarda come se la ride Cristo Capisco la camicia Ma quei capelli no A parte Teddy Però vorrei dire Sarà passato all'incirca un anno e poco più Queste o le nascondevi estremamente bene O ti sono cresciute tantissimo E seconda cosa Questo anello Devo pensare sia suo Povero Kanji Povero Kanji però Ano Sì Volevamo Volevamo Ben Volevamo Allora Volevamo Volevamo Bene andiamo a combattere Allora Volevamo Eccolo Dojima Perfetta E' ancora in corso Sì l'avevo notato Dojima era palese Cibo Dice a tutti che Dojima ti sta aspettando Allora Lo so che non mi dovrei fermare Ogni due battute però che cazzo Potevano farla in tutti i modi Ma quei capelli Va bene che se non eri ci sta da dio Ma sta pettinatura Dio mio no Andava bene qualsiasi cosa Anche i capelli un po' alla Yosuke Un po' spettinati No Kanji Cristo poverino Tu che dici che il cibo è buono sai che novità Dov'è Nanako Arigato Sta prendendo lezioni di pianoforte Piccolino Eh speriamo faccio attenzione Dojima ride Tu come te la passi Tu come te la passi invece Eh meno male dai Che cosa Tua moglie O il caso Ecco ok Perfetto Perfetto Grazie lo sappiamo Ottimo Si vede che aver dissipato la nebbia Si vede che aver dissipato la nebbia Ha aperto il mondo anche a lui Allora Ne son felice E il caso dell'anno scorso invece Si quello l'abbiamo visto Soprattutto se non può dimostrarlo E invece lo è L'abbiamo visto Beh si Oh ecco Qualcosa che mi interessa Ovviamente Era palesi che non l'avrebbe fatto avvicinare Ovvio Qualcos'altro Ovviamente Non mi sorprende Sto guardando l'anime E già tipo la prima volta che lui viene qua a casa Lui gli tira un cazzotto qua sulla fronte Mentre questa cosa qua del cavolo So che è un meme Ma ancora non l'ho visto nell'anime Dojima sembra allegro Onisa Que carino Oh che brava che sei Allora Nanako con i capelli lunghi Un po' mi fa strano Ma sicuramente è meglio di Di Yukiko con i capelli raccolti Sincero Comunque Sono fiero di te Ah ecco perché Esatto Questa Volevo saperlo ma non volevo Mentre ce io ho detto Ma C'è l' ис dormir Questo è molto bene Ma E' l'escrizione Noi Non Questa Non 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 No Non Sì Che mattina che sei Adesso suona Ah ok Niente più nebbia E Mari Sì Marie è la meteorologa E beh, meno male, dai Ma più che altro, scusami Riz Comunque, scusami Se lavora in televisione vuol dire che Tecnicamente è Più grande di noi, soprattutto per fare il meteo Non è un idol che può Avere anche solo 16 anni E di conseguenza per lavorare il meteo deve Avere una certa età, quindi sarà uscita Dal televisore in modo un po' più grande Rispetto a com'era quando era con noi C'è un po' più grande 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 Credo solamente se abbia detto che ci ama Perché abbiamo avuto un rapporto con lei O se l'avrebbe detto di default Però che bello che l'ha detto così davanti a tutti Eh, meno male Ma tu perché ti sei legato ai capelli, Yukiko? Tu stai benissimo invece Ovviamente Ovviamente C'è un po' più grande C'è un po' più grande C'è un po' più grande E perchè Forse che vado in modo un po' più grande C'è un po' più grande C'è un po' più grande C'è un po' più grande E come potrebbe essere Non neanche C'è un po' più grande C'è un po' più grande E io E questo Mi piante E Non Si dichiara pure lei, sicuro Molto bello Devo dire che questa parte qui con Marie mi è piaciuta Ma la parte dove ce ne andiamo col treno mi ha lasciato molto molto più triste E' sicuramente un bel gioco, è sicuramente un bel capitolo della saga di persona E devo essere sincero, vale la pena di essere giocato Per tanti motivi, la giocabilità è ancora ottima, la storia è molto molto bella La ripetibilità un po' dei dungeon a volte può storpiare il naso Ma il fatto che siano randomici secondo me rende molto giusti Guarda con tutte le persone evolute Ah no non è vero, si, no aspetta Questa è la persona base, ho avuto un attimo di vuoto Però è veramente bello, nel senso tutti i personaggi mi sono piaciuti Devo essere sincero su una cosa che forse l'unica un po' più spinta velocemente È Naoto perché arriva alla fine e la sua storia di Confident è A parer mio molto 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 velocizzata Però comunque ci sta Detto ciò Ci è stupenda come personaggio femminile, mi è piaciuto davvero tanto Yosuke come compagno ci sta davvero molto, nel senso è davvero un bravo ragazzo Ah però aspetta, ma sono le persone alla seconda evoluzione Perché? Cioè perché non la terza o la prima? Però comunque Però personaggi appunto come Rize e Yukiko Per quanto mi siano piaciute Cavolo Yukiko decide, me ne voglio andare perché voglio vivere una vita mia E poi accetto la mia vita perché io sarò quella che sarò Comunque me stessa Sì però Mentre invece Rize cavolo Voleva dedicarsi a tutt'altro Poi decide di tornare indietro e non c'è nulla di male Ma sembra che lo faccia per invidia a chi prenderà il suo posto E per carità per quanto comunque ci stia come sentimento Sì e no, nel senso dipende Kanji è un ottimo personaggio invece Soprattutto come crescita personale Nel senso Kanji parte che non sei sicuro se sia effettivamente omosessuale o meno Ed è solo confusione sua Poi invece capisci che in realtà lui non è confuso sulla sua sessualità Ma è confuso su come dovrebbe comportarsi con chiunque Nel senso lui si sente inadeguato con chiunque E di conseguenza cerca di dimostrare una persona totalmente diversa da quella che era Detto ciò a prescindere comunque È un ottimo personaggio Rize come ho detto È un ottimo personaggio ed è sicuramente L'unico personaggio che ti dimostra dall'inizio alla fine Un attaccamento sentimentale Costante Anche se la rifiuti Lei comunque è fissa su di te e sul fatto che ti ami Ed è bellissimo È bello che un personaggio che comunque tu rifiuti Nonostante tutto rimanga attaccato a te Molti personaggi magari si staccherebbero un po' O comunque andrebbe avanti di storia come se nulla fosse Mentre lei la sua dichiarazione e il tuo, diciamo, rifiutarla Comunque stanno bene nella storia Naoto, come ho detto, purtroppo è molto velocizzato come confident Nonostante tutto mi è piaciuto il fatto che comunque lei Si liberi un po' da questo guscio Da questa testardagge di voler dimostrare di essere più che una semplice donna E invece accettarsi così com'è la migliorata per il mio E infine arriviamo poi a Teddy Teddy è un discorso strano Perché all'inizio non mi convinceva Mi sembrava un po' troppo come Diciamo un mascottina del gioco Però capisci che in realtà anche lui è molto grato nei nostri confronti Per un ragionamento serio comunque Alla fine Teddy ci ringrazia costantemente di averlo aiutato a essere quello che è alla fine E di avergli dato un senso della vita E' una motivazione davvero stupenda E' una motivazione davvero stupenda Un po' ho odiato il costume da orse Ho sempre preferito quando era versione umano Però lì E qua Marie Ottimo che inserisca un personaggio così Che sembra essere un plus E alla fine scopri che in realtà è Parte di tutto ciò che era dietro E ovviamente c'è Kaguya Che è parte di tutto ciò che c'era dietro alla fine Sia i nemici sia ciò che era ciò di buono appunto Marie stessa Ed è Ed è veramente molto bello E' davvero molto bello che alla fine Il suo dungeon e appunto la sua persona stessa L'abbiamo dovuta salvare da se stessa alla fine Chi è questo? Doji No siamo noi Come personaggio principale Il protagonista mi è piaciuto Mi è piaciuto perché alla fine Prende la sua persona Non la sua persona Proprio la sua persona stessa E si trasforma sempre piano piano Ovviamente con le statistiche e tutto il resto Ma proprio a livello di personaggio E' davvero ottimo E' davvero ottimo come personaggio E mi è piaciuto davvero molto Nulla togliere a personaggi come Joker ovviamente Ma il protagonista di Persona 4 E' davvero un ottimo protagonista Mi è piaciuto E soprattutto La sua persona era molto bella Era davvero bella Soprattutto la sua evoluzione Purtroppo l'evoluzione ho da dire Perché Sfondo bianco Puff si è trasformato Almeno Arsene Spanchiamo le catene Si evolve Oh La foto con tutti Fine Rise Gli sono cresciute tantissimo Le tette però Ultimo commento Su questa foto Vuoi salvare i dati Della fine partita? Caricando questo salvataggio Ricomincerai il gioco Conservando alcuni attributi Della partita completata Se so farà scrivere il salvataggio originale Non potrei continuare la partita a quel punto Il primissimo salvataggio Lo salvo due volte Uno per lasciarlo così E uno per continuarlo A 125 ore Abbiamo completato Persona 4 Golden Dunque Come procederà adesso questa serie? Questa serie ovviamente E' arrivata alla sua inevitabile fine E' stato un ottimo viaggio E' stato veramente un ottimo gioco da recuperare E sono veramente felice Che alla fine l'abbiano anche messo in italiano Cioè avrei voluto giocare già da tempo Ma ho sempre voluto aspettare E questa attesa alla fine mi ha portato Ad averlo in italiano Detto ciò Io rigiocherò il gioco In New Game Plus Non so se è difficoltà aumentata Non so Deciderò al momento Ma ci sono due cose Che ho interesse fare La prima è sicuramente scoprire Se possiamo combattere contro Margaret E molto probabilmente sarà possibile Ma dovrò maxare il suo confident E seconda cosa Questo A 100 ore di gioco Questo è il salvataggio ultimo Prima di dare la colpa Ad Adachi Voglio vedere Cosa succede Se facciamo una scelta diversa Detto questo Signori Io vi ringrazio tutti Per aver seguito anche questa serie Come vi ho detto Arriveranno degli altri episodi Non prima di un certo tempo Ovviamente Perché Per Margaret Sicuramente dovremmo ricominciare la storia Mentre invece per Adachi Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo A un prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti